Cereali, Ministro. Abbiamo due provvedimenti nel cassetto. Il piano nazionale cerealicolo e i decreti attuativi, i decreti per la sperimentazione. Quando verranno firmati? Cosa? I decreti o il... Tutti e due. No, il piano è già passato, no? La Commissione Stata Regione, però deve partire, deve essere finanziato? Sì, il piano deve assolutamente partire e parte. Questo lo possiamo dire. Cereali scontano il grave problema dei mercati internazionali. Siamo passati, non so, il mais, da 20 euro della campagna l'anno scorso, agli 8 euro e mezzo, adesso oggi quanti è? 14, 15 o giù di lì. E questo fa capire che queste fluttuazioni, il professore può spiegare meglio di me, spiegano che c'è tanta speculazione sui mercati. Basti pensare a tutti i prodotti speculativi che noi possiamo trovare sui mercati finanziari che scommettono sul prezzo delle commodities. Prova ne sia che nel G8 Agricoltura, noi nella dichiarazione finale, se riuscite a far sottoscrivere agli americani, non è stata un'impresa poco facile, tanto facile, di condannare la speculazione negativa sui mercati. E ora, per carità, uno che lavora la terra può dire, ma questi qua mi parlano di mercati, di speculazioni, il mio grano non vale niente. Però la verità è che partiamo da lì, perché i conti non tornano. 6 miliardi di cittadini nel mondo, la FAO ci dice che per sfammarli bisogna raddoppiare la produzione agricola. Ne muoiono 3 milioni ogni anno, siamo sempre deficitari, il grano vale tanto un anno, vale nulla l'anno dopo. Quindi c'è qualche altro fattore che oltre al mercato interviene. Assolutamente, quindi per il piano nazionale, sì, non ha dati precisi, per i decreti invece per la sperimentazione degli OGM? Allora, noi siamo favorevoli a una sperimentazione tutta italiana, in modo tale da dimostrare le nostre... Tutta italiana? Con chi dobbiamo fare la sperimentazione? No, beh, sul MICE, Pioneer, Monsanto sono... Sì, l'italiana nel senso che le prove in campo si fanno qui, perché c'è chi viene a trovarmi con tutte le prove sperimentali degli Stati Uniti, ma non hanno ancora sentito le idee di Obama sugli OGM. Io attenderei un attimo, anche perché comincio a sentire delle frasi che comunque dicono... Ad esempio, c'è un grande quesito, e qua sarebbe una bella riflessione da fare. L'investire tutto sull'OGM, ha pagato oppure no, posso garantire che qualcuno del governo americano comincia a sostenere... Dovevamo scegliere le due vie e non indirizzarci su una solo. Questa è già una presa di posizione importante, ma se prendo la presa di posizione di avere le due linee, vuol dire che comincio a introdurre il principio della coesistenza. Certo. E introducendo il principio della coesistenza, non ho più una visione molto netta come prima. Cioè, io quando incontravo l'ambasciatore americano Ronald Spogli, cioè la prima domanda che mi faceva ogni volta è l'OGM, questo è quello che mi chiedeva. Allora, la mia posizione qual è? La mia posizione ufficiale. Mia, non dal governo. Il governo poi farà i suoi tavoli e inviterà anche noi. di contrarietà perché, innanzitutto, il mondo della comunità scientifica è esattamente spaccato a metà su questo tema. Ma se ne fosse anche uno, pasti contrario, lo dobbiamo rispettare se tutti... No, d'accordo. Uno contrario si trova sempre perché uno che, diciamo così, deve... No, vabbè, ma allora finisco, perdonami. Il mondo della comunità scientifica è spaccato, non a metà, ma il 20-30% dice che fanno male. Del resto c'è una sospensione di un mais, evito di citarlo, sapete quale è il mais della Germania, che ha sospeso addirittura la coltivazione perché dice che dà problemi nelle cavi di laboratorio. Dove si coltivano l'OGM? Non si guadagna di più, eh? Gli avete visti? Le PLV e i risultati economici di quelle aziende agricole. E abbiamo un altro problema, che è quello di natura etica. La Gran Bretagna ce lo insegna, che oggi abbiamo i punti vendita dedicati agli OGM food per chi non ha i soldi per comprarsi il cibo e i punti vendita agli organic food per chi ha più possibilità di spesa. Questo è un aspetto etico, eh? Altro aspetto. Non si dica che bisogna coltivare gli OGM in Italia per sfamare i cittadini del mondo, perché questa è una cretinata, cioè non sta in piedi di trovare questa giustificazione. Cioè il problema è che se in Sudan si vuole coltivare un OGM resistente alla salinità o alla siccità, lo si può fare, cioè nessuno lo vieta. Ma qui c'è qualcuno che vuole introdurre questo. Una persona mi ha fatto fare una riflessione con una frase che secondo me al suo interno racchiude un'altra essenza. Produrremmo semi che non daranno più origine a semi. C'è anche il patrimonio dei semi sui quali dobbiamo fare una riflessione. Perché le stesse persone, lo faranno anche Pasti, che ci chiedono gli OGM, sono quelli che si lamentano poi dell'aumento dell'aurea del 350% negli ultimi sei anni. Ma le multinazionali poi rischiano di incrociarsi ed essere le stesse. Cioè queste sono delle valutazioni che noi facciamo. È pur vero che l'OGM, se è resistente alla piralide, ci permetterà di utilizzare meno antiparassitari e quindi inquinerà di meno. Però queste sono tutte le riflessioni. Poi se volessimo metterlo sul profilo meramente filosofico, Rousseau nel contratto sociale dice che il popolo delega lo Stato a esercitare alcune funzioni. A noi ancora risulta che il 75% di italiani ci dicono che non vogliono gli OGM. Guadagna di più un maestruttore americano o uno italiano? Io dopo lascio il Ministro per documentare. Sì, ma l'avete già dato quella lì. Ma è giornata con gli ultimi dati. E quanto guadagna di più? Allora, il maestruttore americano nel 1996, che è stato l'anno di introduzione degli OGM, guadagnava etero, questo deriva dalle statistiche ufficiali dell'Eurostat e degli USDA americano. Nel 1996 guadagnava grosso modo 800 euro etero e il maestruttore italiano guadagnava grosso modo 2.200 euro. Non guadagnava, incassava dalla venta della sua produzione. La PLV. La PLV. Circa 2.200 euro etero. Nella fine del 2008 il maestruttore italiano incassa la sua PLV 1.100-1.200 euro, quello americano quasi 1.000 euro. Quindi dalla metà al doppio sono arrivati uguali. In queste condizioni noi siamo morti, spiaccicati, non ce le accaviamo. E questo deriva da due condizioni. Uno, i prezzi, e l'altro sono le rese ettero. Le rese ettero negli ultimi dieci anni in Italia sono addirittura calate, perché non si è più investito in ricerche, in miglioramento, e anche perché è calato il prezzo, perché ovviamente più calo il prezzo, meno la gente spinge nelle culture, perché altrimenti è di più. Ma l'altro nostro gap che abbiamo è un gap tecnologico. Cioè oggi noi non investendo in ricerca abbiamo perso produttività, capacità competitiva. E questo è dovuto in parte al blocco della ricerca sui OGM, i cui costi li pagheremo anche nel prossimo decennio, perché non è che la ricerca in campo aperto si faccia da un mese all'altro, ci vogliono anni per accumulare risultati. E quindi la situazione è per conto mio molto preoccupante anche per gli anni a venire, perché non abbiamo lavorato in passato per prepararci all'apertura dei mercati in questo settore. Poi un'altra cosa interessante, che si vede sempre a questo grafico, vediamo il costo dell'allargamento della comunità europea. Questa linea blu della PLV italiana è crollata nel 2003, quando sono entrate Ungheria e Romania. Noi però nel 2003 abbiamo scontato anche una minore capacità produttiva, cioè l'Italia è stato il paese leader mondiale negli ultimi 50 anni per aumento di rese per ettro del mais. Siamo riusciti a incrementare più di qualsiasi altro paese del mondo la rese ettro di mais, perché avevamo fame, dovevamo produrre, c'era spinta per aumentare le produzioni. Nell'ultimo decennio abbiamo addirittura peggiorato, abbiamo perso 30 kg ettro all'anno. In queste condizioni io credo che sarà molto difficile sfrontare anche nuove sfide, come l'invasione adiabrotica che sentivo ieri e oggi dalla Lombardia, parlano di 70-80 mila ettari con danni consistenti da diavrotica. Anche qui l'OGM sarà non voluto dal 70% degli italiani, però o è chimica pesante, o è OGM o non è mais, oppure molto meno mais perché con la rotazione comunque si può compensare. Però le conseguenze sulle stalle, sul comparto zootecnico saranno pesanti. Forse lì poteva fare qualcosa anche la concia del seme.